Eccoci in diretta con TG.com 24, già arrivate diverse prime pagine, diciamo che il fulcro dell'informazione che vedrete domani appunto sui giornali è riferito ovviamente alla questione internazionale. Il mattino di Puglia e Basilicata, l'accelerata di Chigi per la fase 2 della spesa, PNRR, Meloni adesso chiama tutti in cabina, l'insediamento in videoconferenza della Premier, della War Room con oltre 100 prefetture, poi la polemica sulla spending, review, comuni, il taglio di fitto, il ministro, nessuna penalizzazione della spesa sociale, chiedono scuse. Poi il piano di Tavares, la D di Stellantis, 500 ibrida Mirafiori, Jeep Compass invece in Basilicata, Stellantis rilancia anche su Melfi i sindacati in contropositivo. Ora tocca al governo.